In tutta questa storia di una cosa sono sicura, se siamo qui ora, se è successo tutto questo E qual è la tua caratteristica? Scusa? La tua caratteristica? Il tuo punto forte? È solo per causa mia Sono molto sensibile, sensibile nel senso di delicati, fragili Mi sento riuscita a cercare di dire Lei chi è? Non l'ha conoscito È il mio socio Piacere il tuo socio Piacere mio Io proprio mi immaginavo un antiesse un po' diverso Diverso da cosa? Non c'è nulla qua Appunto, si può sapere cosa state facendo? Questa non l'aspettavo neanche io Non credo di averti ancora inquadrati Mi hai fatto bene Forse perché sei distanta In realtà è molto facile inquadrarmi Noi stiamo lavorando con lei Me ne sono accorta Ma non vedo miglioramenti Ma tutto questo mistero Non potete comportarmi come persone normali Ma noi non siamo persone A volte lo sentiamo Vorrei aiutarmene Ma non puoi ammarsene Questo è il mio lavoro da anni E ancora non è bianchiamo Fateceli se io Sempre dobbiamo parlare Ma che cosa dobbiamo fare? Eliminarla Che ne dici di parlare un po' ora? Eh no Non credo di essere il tuo amore adatto Fatela parlare Prosciugatela Scioglietela Quello che volete Io sono la pelle Non sono nata per essere tagliata Non è normale che io mi dà Così spesso